Ciao a tutti carissimi amici d'amiche, benvenuti in questa nuova lezione di letteratura in cui riprenderemo a parlare di Giuseppe Parì. Come abbiamo detto nella precedente lezione, lui è una personità molto importante più che per i meriti letterari che ha, ma soprattutto per l'importanza che ha nel corso dell'intera storia della letteratura italiana. Lui è un poeta impegnato dal punto di vista civile e sociale, già che lui scrive le sue poesie per intervenire all'interno di dibattiti, che siano essi di carattere politico, economico o culturale. Quindi la sua letteratura è impegnata, non è fine a se stessa, non scrive per diletto, ma serve per risolvere dei dibattiti specifici, serve per risolvere dei problemi che sono all'interno della sua società. Lui dunque non scrive per piacere, lui scrive per dare dei insegnamenti. Lui è fortemente ironico nei confronti della nobiltà, non perché vuole distruggere o sovvertire l'ordine sociale, ma proprio per migliorare la nobiltà. Secondo lui la nobiltà è diventata rammollita, già che vive nel lusso, vive nell'ozio e non fa assolutamente nulla di produttivo. Quindi secondo lui questo modo di vivere è contrario al vero principio della nobiltà. Lui ha una vicinanza nei confronti dei poveri, non dal punto di vista della classe sociale, non dal punto di vista socialista. Questa è una vicinanza di carattere evangelico, tale per cui gli ultimi saranno i primi. Lui solo per questo sta dalla parte dei umili, non perché vuole rivoluzionare l'ordine sociale. Lui è un illuminista e riformista molto moderato, perché lui non è d'accordo con la rivoluzione francese, non è d'accordo con Giuseppe II, non è d'accordo con Napoleone. Infatti lui critica anche gli illuministi che girano attorno al gruppo e al giornale del caffè. Per lui la società doveva fare un ritorno al passato, un ritorno alle campagne, già che lui era contro la corruzione delle città e contro la corruzione del mondo e della società moderna. Il mondo doveva ritornare alla bontà e alla purezza. di una società pastorale, agricola. Nel 1791 lui pubblica le Odi, come vi ricorderete dall'anteriore lezione, che sono dei componimenti molto fondamentali, perché trattano temi molto attuali in quel periodo. Trattano dei temi che sono attuali ancora oggi. Solo che lui li tratta in forme in maniere classiche, alte. Lui in queste Odi tratta anche l'inquinamento a causa della rivoluzione industriale, a causa del carbone che inquinava l'aria. Quindi lui tratta dei temi molto attuali che per quell'epoca erano innovativi e che oggigiorno sono davvero fondamentali per noi. Sono sempre presenti nella nostra vita quotidiana. Nel 1763 lui pubblica la prima parte della sua opera più importante e famosa, che era anonima affinché non attirasse l'attenzione della nobiltà milanese. Questa prima parte si intitolava Il Mattino e nel 1765 lui pubblica la seconda parte, ovvero Il Mezzogiorno. Lui però poi avrebbe dovuto pubblicarne altre parti, ma lui blocca la produzione, la pubblicazione e riscrive e ripulisce tutta l'opera. Successivamente la divide in quattro parti, ovvero il mattino, il merigio, il vespro e la notte. Quest'opera è il ritratto di un'intera società. Si tratta infatti di una giornata trascorsa da un nobile milanese. In quest'opera c'è un insegnante che dà dei insegnamenti a questo nobile, che questi insegnamenti sono di carattere ironico, divertenti, con lo scopo solamente di ridicolizzarlo. Questo nobile non fa niente tutto il giorno e cerca di far passare la giornata senza concludere nulla. Dunque vive fra gli ozzi, il lusso e spesso sta a letto e addirittura a volte gli sembra uno sforzo alzarsi dal proprio letto. Questo insegnante per ridicolizzarlo lo paragona ad un personaggio eroico della mitologia greca che sta compiendo nobili imprese, quando in realtà lui si sta soltanto alzando dal letto. Quindi in quest'opera ridicolizza l'intera nobiltà, ma non perché la nobiltà sia sbagliata in sé, ma per come è diventata la nobiltà, per come si è deteriorata. Lui vuole educare e migliorare l'aristocrazia milanese. L'esempio più famoso è quello della Vergine Cuccia, in cui c'è una cagnetta della duchessa che dà un morso alla caviglia di un servo. Il servo, per reazione istintuale, dà un calcio e la cagnetta rotola e va a finire per terra. Il padrone della cagnetta sviene e chiaramente il servo viene licenziato e va a vivere assieme alla sua famiglia per strada, soltanto per aver dato un calcetto a questa cagnetta, che nemmeno lo voleva fare per male, ma è stata una reazione distinta. Questo era un gesto scriteriato, ovvero quello di dare un calcetto al cane di un nobile. Dal punto di vista linguistico, il linguaggio è sempre molto alto, molto classico, come abbiamo detto prima. Carissimi amici, adesso siamo giunti alla conclusione di questa lezione, spero che vi sia piaciuto questo video e se è così mettete like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Adesso ci vediamo nella prossima lezione, vi saluto e vi auguro una splendida giornata a tutti voi che mi ascoltate e vi ringrazio soprattutto per la vostra attenzione. Ciao a tutti, ciao a Fausto!